Fare cultura è una cosa difficile, però passiamo attraverso la comunicazione continua. Noi per esempio abbiamo delle newsletter che come NMEA Servizi inviamo a clienti, a contatti, a prospect perché è necessario che le aziende conoscano le opportunità e le utilizzino. Quindi la partecipazione a convegni, il parlare con i direttori risorse umane e anche con le associazioni di categoria di queste figure professionali per presentare loro queste straordinarie opportunità che esistono e che, come diceva lei prima, effettivamente non vengono completamente utilizzate dalle aziende italiane. Con ADP è una partnership molto stretta e molto profonda ed è una partnership duplice perché noi lavoriamo con ADP attraverso una delle società del nostro gruppo che è Skills Management che si occupa dei modelli HR, quindi della piattaforma logica e processiva sulla quale poi si appoggiano le soluzioni tecnologiche offerte da ADP. E dall'altra parte NMEA Servizi perché ADP offre ai propri clienti dei check-up gratuiti per monitorare e analizzare la situazione dei loro sistemi HR e questi check-up sono interamente finanziabili tramite NMEA Servizi utilizzando i fondi per la formazione interprofessionale. Quindi una partnership duplice è molto importante per tutte e tre le nostre aziende.